Mentre di sfondo osserviamo la situazione attuale su bitcoin che sembra essersi appunto stabilizzato su questo livello di 5.000 dollari ma ogni parola potrebbe essere l'ultima in tal senso perché l'evoluzione a questo punto è imprevedibile come io ho detto negli ultimi video. In questo video voglio parlare di una cosa un pochino diversa anche se correlata al filone e al discorso che stiamo affrontando in questo ultimo periodo. È legata più a un cambio di paradigma in generale. Allora non ho diciamo un video preparato schematicamente andrò un po' a ripercorrere partendo da una domanda un filo e un ragionamento che ho fatto e ho fatto da tempo ormai spiegarvi quella che potrebbe essere un'evoluzione molto difficile da delineare ad oggi perché ovviamente è in continuo cambiamento quindi a cosa mi riferisco. Nel video rilasciato appunto ieri nel momento in cui sto registrando questo video qui è il giorno dopo questo video che tra l'altro ha avuto un ottimo responso ringrazio tutti per averlo visualizzato per avermi fatti i complimenti non pensavo che appunto così tanti potessero andare a interessarsi a questo argomento per fortuna perché bisogna aprire gli occhi. Da una parte ho ricevuto anche mi sembrava un commento dove diceva spero che questo video non lo vedano in tanti anche se va contro i tuoi interessi. È vero perché se lo dovessero capire in tanti questo discorso si scatterebbe veramente in una situazione di panico probabilmente ma in ogni caso non è quello quello che volevo suscitare non è una questione di panico è una questione di realizzare la situazione. Quindi vi rimando a questo video se ancora non l'avete visto. L'argomento di cui voglio trattare oggi è legato prevalentemente alla finanza decentralizzata. Voglio partire da questo commento qui. Ve lo leggo interamente. Si sono fatte delle giuste osservazioni sul modo in cui lavorano le banche. Si è spiegato in maniera chiara il concetto di cascata di valore e dei rischi che in caso di crisi generalizzata si corre. Si procede così soprattutto dal dopoguerra ad oggi. Bene, adesso facciamo un ragionamento che può sembrare pretestuoso ma che penso sia fondamentale. Un ragionamento per assurdo. Si dice in matematica che dallo studio dei casi limiti e dei punti di discontinuità si capisce meglio l'andamento di una funzione. Bellissimo questa analogia. Sapete che io amo la matematica. Supponiamo che tutti gli abitanti della terra utilizzassero bitcoin e che al momento essi siano custoditi in wallet personali e da qualche altra parte. Se avessi bisogno di un mutuo a chi mi dovrei rivolgere? Bene, questa domanda è ovviamente un esempio e un'estremizzazione della situazione. Infatti lo dice, è un portare al limite estremo una situazione in cui ovviamente passare da una fase come quella che viviamo oggi dove la maggior parte della liquidità, del commercio e dello scambio avviene su fiat currency. Ad un mondo in cui il 100% la totalità si passa o si passasse su moneta digitale come ad esempio bitcoin come moneta globale, beh è un bianco e nero molto estremizzato. Però è un esempio paradossale. Che cosa succederebbe in questo contesto? Praticamente quello che abbiamo fatto finora è entrare nella tana del bianconiglio. Abbiamo scoperto bitcoin. Il fatto di aver scoperto bitcoin però vuol dire aver scoperto la punta dell'iceberg. Perché dietro e sotto, quando noi apriamo questa pagina, ovvio la maggior parte delle persone guarda al prezzo, guarda al numero spropositato di asset digitali che ci sono. Sono tantissimi, adesso qui CoinMarketCap ne conta 5.221, sono sempre incrementali. Ma al di là della forse 90% che non vedrà mai un futuro, o 99%? Probabile. Ci sono tanti progetti, soprattutto quelli che magari resistono da più anni, quelli che hanno raggiunto una capitalizzazione importante. Sono progetti che sviluppano e danno una visione alternativa di quello che è il mondo e un cambio appunto di paradigma. Il successo di Ethereum è un successo portato da una visione completamente diversa rispetto a quello che esiste oggi. L'introduzione di smart contract, l'introduzione di una tokenizzazione facilitata. Tutto questo ovviamente non è l'unico progetto, ma penso in pochi possano obiettare al fatto, possano avere obiezione al fatto che Ethereum ha introdotto per primo questo concetto. Poi ce ne sono appunto altri che magari lo faranno meglio, magari Ethereum non è quello che sosterrà il tutto in futuro. Chissà, al momento lo è. Diciamo è un po' lo standard in questo contesto, infatti la finanza decentralizzata, o la DeFi, di cui spesso ho citato, parte proprio da questo. Quando abbiamo raggiunto, se dovessimo raggiungere, o se in questo esempio paradossale si sia già raggiunto questo estremo, a quel punto Bitcoin potrebbe essere visto come, in questa fase dove ancora non ha sviluppato protocolli superiori sufficienti, come effettivamente lo era una volta l'oro o le riserve auree all'interno delle banche. Però, in questa visione si sta ragionando, si sta adottando uno strumento nuovo con una mentalità vecchia. E invece, quello che bisogna fare è cercare la cosa più difficile del mondo, cambiare paradigma. Che cosa vuol dire cambiare paradigma? Vuol dire interpretare tutto il sistema con altre leggi, con altri sistemi. Lo so, è un cambio radicale, non è facile, non si metabolizza in un attimo. Però voglio inserirvi pian piano, voglio inserire in questo video, ovviamente solo introduttivo, degli elementi che lo stanno già rendendo reale. Il primo elemento importantissimo, che è legato ovviamente ad Ethereum, è legato in generale alla finanza decentralizzata, è l'aspetto tokenizzazione. Che cosa vuol dire tokenizzazione? Seguitemi perché poi metterò insieme tutti i punti di cui parlo oggi. Intanto metto di sfondo il prezzo di Bitcoin. Tokenizzazione vuol dire convertire un asset reale in un asset digitale. Tutto qui. Abbiamo ad esempio un immobile, un appartamento. Quell'appartamento ad oggi viene, diciamo, rappresentato, se vogliamo, da un atto di proprietà, no? Quindi abbiamo un certificato che attesta di chi è il possesso di quel immobile. Bene, questo fino ad oggi è stato possibile tramite un pezzo di carta, ma la sua validità sta nel fatto che quel pezzo di carta è riconosciuto, che c'è un'altra persona, che è un notario, che va a confermare che quel pezzo di carta attesta che quella persona a cui è testato è il proprietario dell'immobile. Perfetto. Abbiamo spesso detto di come la blockchain può sostituire questo aspetto notarile, perché in blockchain sarebbe ancora più potente la verifica di questa cosa qui. Quindi, ossia il verificare che quel certificato è valido, è incensurabile, è incorruttibile, molto di più di quanto possa essere la parola di una persona o un timbro. Detto ciò, noi potremmo sostituire e quindi fare un passaggio per il quale si dice che, invece di avere un certificato, si ha un token digitale che rappresenta effettivamente la proprietà di un asset. Una volta che il proprietario detiene la chiave privata di quel token, dell'indirizzo sul quale quel token è custodito, il proprietario della chiave privata è effettivamente il proprietario anche dell'immobile. Bene, prendiamo un pezzettino alla volta, lo so già che adesso vi sta già venendo in mente la domanda, sì ma chi certifica effettivamente la proprietà, cioè chi certifica che quel token rappresenta l'immobile e che effettivamente il possessore è veramente il proprietario. Bene, questo lo affronteremo tra un attimo. E il primo punto è appunto questa tokenizzazione, ok? Secondo punto, gli smart contract. Tramite uno smart contract può avvenire quello che avveniva tramite un notaio con il timbro. Quindi una volta che si è verificato un determinato evento, c'è una determinata conseguenza. Ad esempio, se vendo il mio token e cedo quindi la proprietà, c'è un passaggio di proprietà. Ora, questo non avviene neanche tramite uno smart contract in realtà, ma tramite una semplice transazione su una rete, su una blockchain. Ma potrebbero avvenire altre cose interessanti. Ad esempio, utilizzare quel immobile come collaterale. Quindi quello che una volta veniva chiamato ipoteca. Perché quando si fa un'ipoteca sulla casa, tramite un asset materiale, si va a creare una garanzia o un collaterale per poter predisporre di credito. Quindi mettiamo anche questo blocchetto nel gioco. Adesso viene il bello. Che cosa vuol dire finanza decentralizzata? E cosa vuol dire cambiare paradigma? Noi siamo talmente abituati che quando si va a richiedere un credito o quando si ha bisogno di un prestito, ci si rivolge a qualcuno che ha tanti soldi. Nel nostro contesto, nella nostra società, quella entità che ha tanti soldi è ovviamente la banca. Quindi si va in banca, si richiede un prestito e se si è fortunati, se si offrono le garanzie giuste, si ottiene quel credito, quel prestito. Bene, ma come abbiamo detto appunto, e come vi ho detto in questo video che vi invito a guardare, in realtà la liquidità presente nella banca non è la liquidità della banca, ma è un credito che la banca mette a disposizione basato su depositi di altre persone. Ma allora a questo punto perché dobbiamo passare per la banca? Dobbiamo passare per la banca perché c'è bisogno di un ente centrale sul quale noi riponiamo una fiducia che effettua queste operazioni. Ma adesso, con gli strumenti tecnologici che ci offre la blockchain, c'è ancora bisogno di rischiare di fidarci di un ente che ci ha imbrogliato per tanto tempo? Io dico probabilmente no. L'unica difficoltà, e lo dirò più avanti, è quella che questo cambio di paradigma richiede conoscenza e richiede tempo. Ma questo lo affronterò sul finale del video. A questo punto, tornando alla domanda, come faccio ad ottenere un mutuo? Consideriamo che già si sono sviluppate, oltre a tutto l'ecosistema DeFi, differenti categorie. C'è quella del lending, appunto proprio il prestito, quello di scambi decentralizzati, quindi un mercato veramente libero, quello di derivati, quindi addirittura la possibilità di fare hedging e andare a coprire determinate posizioni tramite derivati su una finanza decentralizzata, quello dei pagamenti e quello di asset tokenizzati. Quindi abbiamo quasi tutti i rami che sono necessari nella finanza tradizionale, non me ne vengono neanche in mente altri. Arriviamo al discorso liquidità. Abbiamo la possibilità, e già ci sono, dei pool. Che cosa sono pool di liquidità? Sono quello che noi abbiamo conosciuto fino ad oggi come le banche. Quando noi andiamo a depositare soldi in banca, e tante persone depositano soldi in banca, la banca ha un pool di liquidità. Tutti i soldi di altre persone che utilizza per emettere prestiti o fare altre operazioni. Questo potrebbe avvenire senza la banca. Come? Grazie agli smart contract, dove io tramite una transazione vado a depositare in un pool generico, che è basato su una blockchain, in questo caso magari Ethereum, e lo smart contract va a certificare, ferma in un lasso temporale, che io, proprietario di quella chiave che ha mosso quel fondo, ha bloccato un determinato asset dentro un bacino più grande, a cui partecipano tante persone, e in qualsiasi momento io vada a richiedere il prelievo, io posso farlo, perché il quantitativo depositato lì dentro, una quota è la mia. Viene tutto certificato tramite uno smart contract, dove non c'è più bisogno di fidarsi di nessuno, è tutto scritto e trasparente su una blockchain. Lo so, questo concetto non è facile. Non è facile perché cambia del tutto il modo in cui siamo abituati a ragionare. Però seguitemi, cercherò di introdurlo poi anche in futuro, pian piano, in tutti questi discorsi che si vanno a concatenare. Quindi abbiamo ad esempio Kyber Network, ma ne abbiamo altri, c'è Uniswap, c'è tutto il sistema di Maker, c'è il vecchio sistema un po' più legacy di Bancor, abbiamo Curve e tanti altri bacini di liquidità, come ad esempio quello di Synthetix, che poi si basa anche esso su Uniswap e appunto nell'ecosistema Kyber Network. Insomma, abbiamo diversi bacini di liquidità, ai quali va a confluire un certo quantitativo di deposito e a quel punto abbiamo anche dove chiedere un eventuale finanziamento. Perché può essere anche richiesto in stablecoin, quindi non cambierebbe niente, è come chiedere dollari. Perché quando andiamo a vedere USDC, che vediamo qui, è l'equivalente digitalizzato e tokenizzato del dollaro, ma anche USDT. Sono token che si basano su Ethereum, ma rappresentano il dollaro. Alla fine, anche quelli che andiamo a chiedere in banca quanto ci fanno un mutuo, sono una forma digitalizzata, non ci danno il contante, quel contante probabilmente non c'è per l'effetto di creazione a catena che vi spiegavo nel video precedente. Quindi, non cambierebbe poi niente. Però che cosa cambia? Cambia il fatto che effettivamente, quando noi andiamo a richiedere un mutuo o un finanziamento, ci presentiamo e c'è un qualcuno che decide se quel mutuo può essere concesso e se le nostre garanzie sono sufficienti a farci ottenere quel prestito, giusto? E' questo l'anello mancante, perché a questo punto qualcuno potrebbe pensare, beh, ma la banca a questo punto serve, perché chi dimostra se io sono meritevole, ho abbastanza credito per poter accedere al fondo di liquidità dove tante persone hanno messo i propri soldi, perché poi funzionerebbe così, io ho messo dei soldi, perché li metto? Perché così guadagno tramite interessi, cioè quello che fa la banca. Io quindi voglio prestare quelli che ho messo a disposizione in liquidità solo se ho un ritorno economico. Tutto deve essere incentivato da un guadagno. E questo è ovvio, perché ci vuole l'incentivo economico, altrimenti non funziona nulla. E c'è, perché io metto a disposizione la mia liquidità proprio perché appunto così ne ho un guadagno. Però vado a prestare solo a chi mi offre garanzia che può restituirli, altrimenti sarebbe un perdere. E non posso permettermi appunto di perdere così, senza neanche potermi poter fidare, perché non ci si fida più, perché non so chi c'è dall'altra parte. Andiamo a rimuovere la fiducia. Come si fa a rimuovere la fiducia? È quel grande cambio di paradigma. Bene, qui dobbiamo introdurre un altro tassello a quello che è la DeFi. E questo tassello ce lo portano gli oracoli e la decentralizzazione dei dati. Sono nati i progetti ed hanno avuto un successo enorme, come ad esempio Chainlink, ma ce ne sono anche altri minori, come Tellor, come i più piccoli, Band, e ce ne sono anche altri. Ovviamente questo è un trend che ha preso la sua forza e la sua crescita proprio perché il sistema di cui vi sto parlando sta prendendo trazione. È un sistema ancora molto instabile, ancora molto in fase di prototipo, quindi avrà tantissime problematiche, tantissime falle. Ma che cos'è questo sistema di cui tanti parlano legato a un sistema di oracoli? Il sistema di oracoli va semplicemente a decentralizzare la validità dei dati e toglierla da un contesto on-chain, passandolo, collegando il sistema on-chain, ossia tutto quello che c'è sulla blockchain, ad un sistema esterno, quello off-chain, ossia andare a verificare che le garanzie del mondo reale esistino veramente, senza bisogno della banca o del notaio. Sembra magia, com'è possibile? Beh, avviene decentralizzando anche questa fase decisionale, ossia invece di esserci una banca che decide se io sono meritevole di ottenere il credito, c'è un insieme di oracoli, facciamo finta che siano persone, che magari detengono i loro link, che hanno dei nodi in realtà della rete, e vanno a valutare un certo tipo di requisito e valutare anche quanto quel requisito può ottenere. Facciamo un esempio pratico e mettiamo insieme tutti i tasselli. Esiste una liquidità totale, magari su Kyber Network, dove c'è un tot di stablecoin USDC, in un mondo futuristico, dove appunto tutto è ben o male capitalizzato in base al bitcoin, e quindi tutto in base a quello, e il fiat non c'è più perché da lì siamo partiti, ma questo funziona anche su una via di mezzo, intendiamoci, non sarà bianco e nero, comunque. A questo punto la liquidità esiste, io voglio ottenerne perché voglio comprare una casa, non ho abbastanza fondi, però ho un bel lavoro, quindi ho la garanzia che quel lavoro mi permetterà magari di ripagare il prestito che prendo, garanzia che poi non è per sempre, però i mutui funzionano così, i mutui vengono concessi in base a questo tipo di garanzia, no? Quindi io che cos'ho? Ho un contratto di lavoro. Facciamo il caso in cui quel contratto di lavoro possa essere tokenizzato, quindi tramite una rappresentazione digitale di quel contratto che poi ha anch'esso digitale, ma messo su blockchain, coperto da uno smart contract e riconosciuto da una serie di oracoli decentralizzati che vanno effettivamente a verificare che il mio datore di lavoro ha firmato quel contratto e quindi dicono sì, Tiziano lavora per quell'azienda e lo certifichiamo noi in modo decentralizzato, non solo una persona ma migliaia, quindi effettivamente quel token rappresenta il contratto. Quindi, quando io mi presento da un sistema come ad esempio, non so, Compound, mi servono dei soldi, Compound mi dice, ok, io te li posso dare, Compound è una figura astratta, non è una persona, è uno smart contract che ragiona matematicamente, non ha pregiudizi, non guarda il nostro status sociale, non gli interessa nulla, gli interessa che noi abbiamo un collaterale. Quel collaterale può essere degli Ether, può essere dei Bitcoin, quel collaterale può essere un token che rappresenta un asset o un contratto di lavoro. Quindi, io presento il mio token che ha una validità perché ha un contratto indeterminato, in una bella azienda con un certo stipendio, ha un suo peso, lo smart contract di Compound riconosce il peso, va a verificarne la veridicità, come fa a verificarne? Va a consultare, quello smart contract, gli oracoli decentralizzati, basati su sistemi come Chainlink, come Tellor, come Band, verifica che la validità e la persona corrisponde effettivamente come possessore a quei requisiti, valuta quant'è la possibilità del mio prestito e acconsente o nega un certo tipo di liquidità o un certo tipo di accesso al bacino. Fatto questo processo, io entrerò in possesso o non entrerò in possesso se non ne sono valido, ma anche oggi funziona così, non a tutti vengono concessi in mutui, però in questo modo è molto più verificabile rispetto a mutui concessi ad esempio come è stato fatto nel 2008 con i subprime e cose del genere che vi consiglio di andare a vedere e in quel contesto chi poi effettivamente ha prestato la sua stable coin, i suoi ether nella liquidità, in realtà poi io vado a pagare, a ripagare quello che ho preso in prestito con un po' di interessi e quegli interessi sono risuddivisi proporzionalmente a chiunque ha contribuito nella liquidità. È un sistema fantastico, è un concetto bellissimo, lo so che non è facile perché cambia radicalmente il paradigma. Qual è il risultato di tutti questi blocchetti che vi ho illustrato oggi? Il risultato è quello di aver tolto di mezzo tutti gli enti centrali, aver tolto di mezzo le banche. Le banche con la blockchain non esistono più, non servono più, è quello che porta a bitcoin, è per quello che io non... alle volte sono anche stato indicato come, poi è una sturdità, come massimalista a bitcoin. Nel mio contesto non c'è un antagonismo tra bitcoin o ethereum, perché ognuno ha la sua funzionalità e questo ecosistema si sostiene a vicenda dove bitcoin è appunto la rappresentazione dell'oro, in questo senso qui è l'oro dell'ecosistema, non che tiene quanto l'oro, non che è riserva di valore, quello è un altro contesto, è il contesto economico di cui ho trattato spesso. Oggi sto parlando dell'aspetto tecnologico, tecnico e di ecosistema. Penso di aver illustrato la strada che abbiamo cominciato ad intraprendere. Questa è la finanza decentralizzata, questo è quello che si sta cercando di ottenere. Poi in parallelo c'è il link che cerca di migliorare, Ethereum cerca di portarsi su un altro tipo di consenso, con meno consumo energetico. Bitcoin cerca di migliorare la sua prestazione a livello di transazioni per secondo, aggiungendo un layer superiore che permette di operare anch'esso, senza andare ad intaccare le transazioni on-chain, ma operando solamente su un livello off-chain. La Lightning Network, infatti, la Lightning Network è rappresentata come primo esempio della DeFi, anche qui su DeFi Pulse, per Bitcoin. E ci sono tantissimi altri casi di cui solo il genio umano può opporre una limitazione. Cioè, la limitazione che c'è a quanto si può creare è solo la generalità dell'uomo. E questo è da capire. Adesso, qual è il più grande punto di criticità che c'è dietro a questo? Che questo sistema non è detto che possa funzionare al 100%, perché è un sistema, un prototipo che cambia radicalmente il paradigma e cambia totalmente i giochi di come li conosciamo. Quando si critica senza conoscere questo sistema e questo mondo qui che, onestamente, dopo quattro anni di studio, non penso, io posso dirvi di aver conosciuto anch'io solo la punta, perché più si scava e più si scopre, prima di criticarlo bisogna conoscere talmente tanto. E la bellezza è che più si scopre e più si impara e più si cresce. È un sistema, è un mondo questo delle cripto, che ti fa conoscere di tutto, ti fa conoscere dall'economia, dal sistema monetario, alla politica, agli aspetti sociali. Ovviamente non è la panacea di tutti i mali, però è un'alternativa che, secondo me, può rappresentare un'opzione in caso il sistema si dimostrerà, come probabilmente è, e come probabilmente si dice da anni, fallace ed erroneo dai suoi fondamenti. Quindi da quando, effettivamente, il sistema si è slegato da riserve auree, si prende come riferimento il 1971, dove la fiat più diffusa al mondo, il dollaro, ha cominciato ad essere creata a beneficio di poteri forti e a discapito di popoli e persone che comunque sacrificano e barattano il loro tempo per ottenerne, da quel momento in poi si è andata a creare una bolla inflattiva che porterà al termine e non lo porterà in modo delicato, ma purtroppo sarà molto brusco. A quel punto ci si interrogerà se c'è un modo alternativo di affrontare le cose, se la tecnologia e l'evoluzione umana ha portato un qualcosa sul quale si può rifondare interamente tutto il sistema. Ma sarà una guerra, e lo è. Cioè, ogni giorno è una battaglia. Quando ci sono i cali drastici sul mercato, quando Bitcoin sprofonda, ovviamente c'è chi guarda la punta dell'iceberg e dice, sapevo che era tutta fuffa, perché guarda solo l'aspetto speculativo del guadagnare 100-1000 euro in più, 1000 euro in meno, comprando e vetendo Bitcoin. Ma non sa tutto l'iceberg che c'è dietro, è quello che potrebbe portare, è quello per cui tutto questo sistema ha preso miliardi di capitalizzazione e miliardi di valore. Spero di averlo introdotto un po' meglio. Non è facile fare una quadro generale di tutto quello che si è costruito, ma di tutti questi aspetti ne parlo continuamente sul mio canale. Ho affrontato singolarmente questi nuovi approcci, questi nuovi sviluppi, e continuerò a farlo. Se volete approfondire, proprio in questi giorni in cui c'è tantissimo tempo per poter studiare, ho fatto una serie di percorsi formativi insieme a Filippo Angeloni in cui andiamo proprio ad introdurre tutti questi concetti, perché sarebbe impossibile riportarli video dopo video qui su YouTube. Abbiamo realizzato più di 200 video solo spiegando queste cose, parlando magari anche più di 40 minuti per video. Quindi capite bene che l'effort è enorme, perché la molle di conoscenza che c'è dietro è tantissima e lo studio è progressivo, l'evoluzione altrettanto. Trovate riferimenti a questi percorsi, se siete interessati, appunto, in link in descrizione. Ma in generale, la cosa più difficile che sarà da fare sarà il cambio di paradigma, perché questo non avviene a breve. In primis c'è il blocco portato dall'ignoranza delle persone. Questo settore è sconosciuto e quei pochi che lo conoscono magari si fermano alla conoscenza speculativa, economica, guardano l'anisi tecnica e si fermano lì. E poi c'è un fattore temporale, un ricambio generazionale, un'abitudine, un cambio di abitudini, perché un conto è un millennial che ha un approccio al digitale tutto diverso da chi invece ha vissuto in altro modo, appartiene ad un'altra generazione e magari ha ancora fatica ad interfacciarsi con sistemi magari più semplici come quello di essere disinvolti su un social network. Però anche loro hanno imparato ad essere disinvolti su un social network e anche loro non sanno come funziona un social network. Teniamo a mente anche questo, non c'è bisogno di sapere come funziona Chainlink. Se si vuole lo si vede, ma non c'è bisogno di sapere come funziona. E non c'è neanche bisogno di fidarsi, perché se appunto non ci si fida, si controlla, ma è un sistema che funziona. Detto ciò taglio questo video, farò approfondimenti continuati su questo aspetto, fatemi sapere che cosa ne pensate, se sono troppo visionario, se vi ho portato un po' troppo oltre. Ma partivo appunto da questo commento e da una visione abbastanza paradossale, estremizzata di quello che potrebbe essere il futuro. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video.